Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua sempre qua sempre qua sempre qua se tu puoi ragazzi Oggi parliamo di Mediaset Play sullo Sky Q Ovviamente sono il primo in Italia a mostrarvelo ragazzi Allora ve lo mostro subito e andiamo dentro con Mediaset Play sullo Sky Q Platinum L'app Mediaset Play la troviamo sulla sezione intrattenimento E come potete vedere qui abbiamo Tutte i programmi e le sottosezioni di Mediaset Play Un programma qualsiasi lo troviamo nella sezione registrazione ovviamente Andiamo a vedere La situazione con la proprietà e l'allenatore inquieto e cercare così di rassicurarlo Il messaggio più confortante però arriva proprio dal lavoro del comandante Conte Ed è una squadra che Come avete potuto vedere ragazzi vi ho mostrato Mediaset Play sullo Sky Q Platinum Ragazzi se vi piace questa tipologia di video cliccate mi piace, condivide ed iscrivetevi E fatemi sapere sotto nei commenti Se volete altri video su riguardanti sullo Sky Q Platinum è tutto bello ragazzi